La pandemia non molla e il Molise insieme all'Abruzzo lascia segnare l'indice di diffusione del virus più alto d'Italia. Sulla base del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità è stato registrato nella piccola regione il dato di 949,6 casi per 100.000 abitanti. Oltre alla soglia critica, il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid nei reparti di area medica 20,5%, mentre la terapia intensiva è vuota. Dunque, secondo i dati della Fondazione Gimbe, nella settimana 20-26 aprile il Molise ha registrato un incremento dei contagi del 4,8%, questo quando mancano poche ore all'addio al Green Pass. Da domani non sarà più obbligatoria la certificazione verde, mentre resterà in vigore, almeno fino al 15 giugno, l'obbligo di mascherine nei mezzi del trasporto pubblico locale a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Obbligo di mascherina anche per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali e strutture sanitarie, incluse le RSA. Negli altri luoghi di lavoro, invece, i dispositivi di protezione saranno solo raccomandati. Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ha lanciato un nuovo invito alla prudenza. La situazione epidemiologica questa settimana è stazionaria rispetto a quella della settimana passata e il tasso di incidenza di casi di Covid-19 sale di poco, fissandosi a circa 699 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT non si muove molto, siamo intorno a 0,93, quindi di poco al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area media e di terapia intensiva è rispettivamente al 15,6, al 3,8%, quindi stabile rispetto alla settimana passata. Data l'elevata velocità di circolazione del virus, l'incidenza ancora piuttosto elevata, è bene continuare la campagna vaccinale con le dosi di richiamo e mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza, quindi l'uso delle mascherine in luoghi chiusi, affollati e ovunque ci sia un rischio di contagio. Grazie a tutti.